buongiorno stavamo considerando questo comandamento di non farsi sculture né immagini e abbiamo messo l'empasi su non prostrarsi davanti a loro e non li servire perché io il signore ecco io il signore il tuo dio ok cioè notate il linguaggio io il signore cioè il chi di ossa il capo il padrone il tuo dio personale sono un dio geloso nessuno la gelosia vorrei chiedere a voi ma voi direste siete persone gelosi o gelose direste un pochino ma chi ama dire che io sono geloso nessuno lo dice perché è un attributo piuttosto negativo cioè che vuol dire essere geloso vuol dire che stai lì sempre a a guardare chi guarda tua moglie o guarda tuo marito e a fare storia non finire ma dio nella sua omniscienza dice io sono geloso wow sono geloso di chi io sono geloso di te io sono geloso di israele questo è forse la prima cosa che dobbiamo mettere in contesto dio è geloso di israele cioè quando israele va con altri va adorare altri dei dio è geloso e tanto è vero che in deutronomio ed in romani e li scrive io sono così geloso che ve lo faccio pagare e dice voi mi avete reso geloso andando dietro a dei che sono niente ok io adesso vi renderò gelosi perché io andrò anche io dietro un popolo che non altro cervello che non è un popolo che non è un popolo e che parlerà di di me che sono il tuo dio ma tu sarai geloso in israele questo sta avvenendo cioè tu parli ai giudei del loro dio e loro dicono ma scusateci ma come vi permettete di parlare del nostro dio sono gelosi Dio li ha resi gelosi e noi possiamo dire cari miei fratelli giudei ricordati che il tuo dio è anche il mio dio e voi l'avete l'avete fatto in gelosire voi siete andati dietro ad altri dei e lui è andato dietro ad altri popoli per rendervi gelosi quindi è un dio geloso Giacomo dirà che Dio ci brama fino alla gelosia ossia Dio non è solo geloso di Israele è geloso di me ed è geloso di te cioè ci ama così tanto che se ci vede che rivolgiamo lo sguardo ad un altro dio all'amore ai soldi all'immagine sbagliata che abbiamo quello che è è geloso cioè penso tutti noi saremo gelosi se nostra moglie o marito guardasse altri uomini o altre donne con particolare interesse siamo gelosi e Dio dice lui è geloso ora la cosa incredibile e finché sia geloso di finché siamo gelosi noi ok ma che lui sia geloso di me e che lui sia geloso di te lo capite che se lui è geloso è perché dà un valore a te e a me ci tiene a te e a me noi siamo particolari per lui Giacomo dice esattamente queste parole lo spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia Dio è geloso di te perché ti ama e perché ha un valore che lui ha messo su di te e su di me non farti buttare giù da nessuno tu sei prezioso agli occhi di Dio tanto che è geloso di te Dio ti bene Dio è geloso di te